Un'altra storica associazione con l'Italia, poiché tutti i nostri capitani sono italiani e molte delle nostre navi sono state costruite lì. Alla cucina del capitano, onoriamo la nostra orgogliosa eredità italiana ricreando alcune delle ricette con cui sono cresciuti i nostri capitani e ufficiali. Siamo appassionati nel condividere queste semplici e onorate tradizioni direttamente dall'Italia e utilizziamo solo i migliori ingredienti come comodori maturi, merda aromatiche e olio extravergine di oliva. Cucina sembra e si sente come la casa di un capitano italiano e quando sei con noi ti trattiamo come una famiglia servendo porzioni generose in un'atmosfera calda e autentica dove persino le foto non fanno. Sulle pareti provengono direttamente dai nostri ufficiali italiani e la nostra piccola fetta di dolce di a bordo quindi accomodati, rilassati e assapora tutto. E dentro la fine della serata conoscerai la parola italiana per delizioso antipasti classico patè e terrina in stile italiano fetta di prosciutto, bresala, supressata, serviti con crema di olivine, capperì, arancini tipici del capitano. Preso l'olio salsa rossa dalla Sicilia, autentite colpette di riso, guarnite con ritorna salata e servite su salsa marinara, calamari. Fretti, fretti, delicatamente e serviti croccanti. Guarniti con scaglie di sale marino, fine carbonizzato e salsa marinara, carpaccio di salmone. Salmone fresco, lette sottili, perpura in salamoglia, salpette del nonna, ricetta del nonna, patte a mano con aglio e cipolla, saltati d'olio d'oliva con calcolno, con mozzarella fresca, servite sulla salsa di pomodoro, segreta del capitano, mi mestrone. Pagioli, cannellini, basilico e di bordo, fanno papo macinato a mano, papolo nero. Zuppa di verdure con fagioli, cannellini, in un ricco brano di pomodoro, servita con crema al mascaratone, nel tavolo nero croccante, burrata fatta in casa, formaggio italiano fresco fatto a mano, a base di mozzarella e stracciatella, lì chi è la servita, con pomodorini in camicia lo chardonnay. L'insalata di rucola preferita dal capitano, l'insalata e novelle saltate con mandorle margola, barbamire con le losse e gialle tagliate sottili, rucola fino a idretta italiana. insalata, insalata, cesar lattuna romana fresca, formaggio romano importato e crostini, saltati nella nostra salsa da cesar fatta in casa, piatto d'autore del capitano. Ogni cucina del capitano presenta, anche un piatto unico, ispirato alla preziosa, ricetta di famiglia del capitano, che è stata tramandata per generazioni, e sebbene ogni piatto sia diverso, state certi.